Mi chiamo Carolina Falsetti e vesto i panni di Eleni Sherry. Eleni Sherry è una ladra, ha un carattere apparentemente molto forte. In realtà è molto fragile, in quanto il suo amato Lucas è stato rapito dalla criminalità organizzata e lei farà di tutto per salvarlo. Columns per me è stata un'esperienza molto positiva, mi ha fatto crescere in questo campo e devo ringraziare il regista Gustavo Garappa e spero di continuare ancora su questa strada. Invito a seguirci. A presto!